In un momento di difficoltà economica, qual è quello che stiamo vivendo, non avere arretrato degli stipendi significa aver accumulato ulteriori debiti. Si è chiusa con la vittoria dei lavoratori rappresentati dalla UGL, l'avvertenza Unilabor Ciclat connessa all'appalto per la pulizia dell'aerostazione di Pescara esternalizzato dalla Saga e per il quale il sindacato aveva proclamato lo stato di agitazione nel 2019 per il mancato pagamento dei dipendenti. Una vicenda che si trascinava dunque da anni e che si è chiusa con sentenza dello scorso 31 luglio. Gianna De Amicis, segretario UGL Abruzzo. A un certo punto la Ciclat non paga più i dipendenti. A questo punto, dopo varie traversie e cose varie, la Saga decide di bloccare l'appalto e subentra un'altra. Ma rimangono da pagare stipendi maturati e non, come dicevo, pagati. Noi come sindacato abbiamo interessato il committente Saga, così come da normativa vigente, che è responsabile in toto per il pagamento. Questo non è avvenuto. La Saga era certa che non ne avesse responsabilità in toto per sempre questioni legate alla vicenda Unilabor vincitrice, poi azienda consortile Ciclat. La Saga è stata condannata anche a risarcire, oltre che a pagare, a risarcire i dipendenti. Allora noi abbiamo questa motivazione. Ci chiediamo perché utilizzare i soldi pubblici quando si sarebbe potuta divenire un accordo?